felice vieni qua vieni qua e che stiamo facendo? sono quattro mesi che andiamo vai da vai dal bottegaio all'angolo sai qual è? e uno ce n'è all'angolo fatti dare un chilo e mezzo di lingua di passera non ti fai dai maccaroncillo che io non me magna fai che tieni qua la qualità della passera fai che le maccaroncillo ma fanno peso sullo stomaco che devo fare? la fama che tieni digerisci pure le corde del contrapazzo ti fai dare pure mezzo quarto di insonnia fresca, buona e poi il succhino come lo facciamo? come lo facciamo? ti fai dare mezzo chilo di salsicce buone, quelle tagliate a coltelle brava è una bella buate ma grossa grossa assai perché a me i maccaroni mi piacciono inguacchiata adesso vediamo fammi andare perché chiudo la portica e poi vogliamo rimanere asciutta asciutta eh? vogliamo rimanere asciutta asciutta ti fai dare dieci uova eh? dieci uova fresche due per uno te le mangi tu due uova eh? se tu me le dai io me le dai brava fatti dare pure mezzo chilo di mozzarella perché a me le uova assolute non mi sono mai piaciute sempre uova e mozzarella ci ho mangiato io hai capito? si fatti dare un panetto di burro fresco perché ricordati bubè le uova con la mozzarella si cucinano col burro e mai con l'anzogna hai capito? mai eh fatti dare due panate di pane fresco bello buone hai capito? fresco eh sì non poche di frutta secca fai tu noce una stagna noce ah 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 fatti dare una lira in denaro e ti fai dare due litri di vino buono dal cantiniere di rinvetto hai capito? piglio due gragnana bello fresco frizzante hai capito? vai vai giusto per curiosità eh ma giusto per sapere ma linda si sta mappando ma linda si sta mappando ma linda si sta eh lo bollo da stracando no lo rinocce la catena d'oro no ma no signore qua dentro ci sta qualcosa che vale molto di più di un orologio con la catena volevo ben dire che ci sta qualcosa qua linda c'è sta lo sopravvita mio di quando facevo il salassatore eh ma pozzita lo sopravvita mia se quando faceva il salassatore eh ma si ricorda il 48 sopravvita avevi 13 anni già veniva lungo lo sopravvita quello è buono ma state si è buono lo salassatore quello si è tomando una delle cose che hai chiesto la lingua di passere lo sopravvita e come quello mi viene a prendere 4 o 5 boate vacante mi viene a prendere ma lascia perdere poi io non ci posso andare non ci posso io non ci posso io no perché no quello tiene ancora il 51 in ucilena quasi 2 mesi non l'ho potuto tirare ma anche io ci posso fa lì ma anche io ci posso si chi le deve una coperta d'inverno che saranno 4 mesi al lavoro ecco guarda roba nostra che è bruttissima